Peter, sbrigati, siamo già a cena! Ragazzi, sto diventando pazzo. Uno dei sette nani si chiamava Bruscolo. Era quello ben vestito oppure me lo sono inventato? Oh mio Dio, papo! Papone, stai bene? Le odio queste nuove scale. Sì, sto bene e resto un po' sdraiato qui finché non mi passa il dolore. Fa un cacchio! Oh mio Dio, Peter, stai bene? No, non sto affatto bene! Qui non va bene un cacchio di un cacchio! Ho una situazione d'emergenza. Kate vuole presentarmi i suoi genitori. Ehi, ragazzi, volevo solo prendere questo. Grazie. Che cosa devo fare? Ok, ok, adesso calmati. Calmati? Dobbiamo andare a cena domani sera. I suoi genitori vedranno che sono un cane. Ma va, giù, giù! Mamma, che cosa facevano qui oggi quegli operai? Hanno rimesso le vecchie scale, Meg. Non avevo altra scelta. Yeah, adoro le mie vecchie scale. ικά. Ehi, eh, 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 eh. Grazie.